Maltempo nelle Pesarese, la pioggia batte gli alberi ma fa respirare i fiumi. Il destino della biosfera, Biancani e Frenquellucci fanno il punto della situazione. Spazio e furti tra Pesaro fanno gabizze dentro terra, gli interventi di carabinieri e polizia. L'appello di Casa 33, lo sport ed il calcio come aiuto sociale. La VL parte in ritiro per Carpegna tra l'entusiasmo dei suoi tifosi. Una buona serata telespettatori di Rossini TV e benvenuti a questa nuova edizione di Rossini News. Telegiornale di oggi, lunedì 19 agosto, che apriamo parlando del maltempo che ha riguardato la nostra provincia e l'intera regione Marche in questi ultimi giorni. Tra i disagi provocati dalla pioggia ci sono però anche degli aspetti positivi che riguardano la crisi idrica e il tema delle mucillagini. Vediamo. È arrivato il maltempo di Ferragosto a Pesaro Urbino e in tutte le Marche. Una notizia che ogni anno diventa sempre più tradizione e che ha una puntualità incredibile. Quest'anno però si è fatto attendere qualche giorno in più, arrivando subito dopo il 15 di agosto, dove comunque si era annunciato sui cieli di Pesaro con qualche nuvola scura e piccole gocce d'acqua che hanno rinfrescato i pesaresi nel giorno d'estate per eccellenza. Una pioggia che porta con sé due volti, uno positivo ed uno negativo. Partendo dal primo, quest'ultimo riguarda principalmente i fiumi ed il conseguente tema della crisi idrica, sperando che l'intensa pioggia degli ultimi giorni possa dare respiro e speranza alle acque del Burano e del Furlo. E poi c'è l'aspetto, meno importante sicuramente per la natura, ma maggiormente sentito dai bagnanti, che è quello della mucillagine, poiché soltanto un'intensa pioggia avrebbe potuto pulire le acque del mare e dunque ecco il servizio di pulizia naturale che è stato servito. Ci sono poi però anche gli aspetti negativi che una pioggia del genere comporta purtroppo ogni volta che cade. Sono stati infatti numerosi gli interventi dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine sul nostro territorio per garantire la sicurezza e la viabilità delle strade. Anche questa volta infatti non sono mancati alberi cadutei o strade che non sono riuscite a contenere l'acqua. Fortunatamente però non si sono registrati gravi incidenti e anche i disagi provocati sono stati prontamente risolti. E da quello delle maltempo passiamo ora a parlare di un tema molto discusso negli ultimi giorni, ovvero quello della biosfera di piazza delle popole e della sua futura collocazione. Varie le proposte e le idee dei pesaresi e degli amministratori sul destino di quest'opera tanto fotografata. La biosfera è uno dei temi caldi di quest'estate, soprattutto ora che è tornata di moda la notizia che vedrà quest'ultima spostarsi da piazza del popolo, facendo così fantasticare i pesaresi sulla futura possibile collocazione e sul destino che riguarderà quest'ultima. Per quanto riguarda la biosfera voglio ricordare che quando è stata posizionata da subito la precedente amministrazione aveva dichiarato che sarebbe rimasta in piazza del popolo per tutto il 2024, ma che poi sarebbe stato opportuno individuare una nuova sede dove poterla collocare. Quindi dal mese di settembre, ottobre, cercheremo di capire quello che sarà il luogo più adatto, anche perché tenerla in piazza non è opportuno per tutta una serie di motivi, innanzitutto perché c'è stata già da un anno. Ma poi cercheremo appunto di individuare nuovi spazi. Tra i nuovi spazi che cercheremo di capire dove metterla, cercheremo ovviamente di non metterla sotto le case delle persone, perché ovviamente la biosfera quando è accesa c'è la musica e quindi può creare disturbo alle persone che vivono nelle proprie abitazioni. E quindi cercheremo di metterla lontano dalle abitazioni con l'obiettivo di posizionarla o in un parco o in un giardino pubblico o in uno spazio molto frequentato, potrebbe essere un'idea anche quella fuori della stazione del treno, oppure andare a posizionarla in uno dei chiostri, dei cortili interni che abbiamo nel centro storico. Qualcuno ha proposto anche di portarla in zona mare, quindi diciamo che attualmente ci sono molte soluzioni che stiamo prendendo in considerazione. Abbiamo visto anche ieri sui giornali che ci sono state attività commerciali che chiedono di non spostarla, quindi evidentemente ha portato come attrattiva sia turismo ma anche curiosi. Comunque il fine della biosfera è stato quello anche di dare un messaggio forte sia per i turisti o comunque chiunque veniva nella nostra città che Pesaro rimane anche al passo con tutto ciò che è l'innovazione tecnologica. La biosfera oltre ad essere il luogo che rappresenta Pesaro capitale della cultura, si è voluto dare anche un'educazione ambientale perché vediamo nelle tre visioni che le persone possono vedere parliamo anche dell'ambiente, quindi un altro tema importante. Abbiamo unito la transizione ecologica e la transizione digitale. E di questo noi come politica che abbiamo lanciato l'idea progettuale dal sindaco precedente possiamo dire che l'obiettivo è stato raggiunto anche perché abbiamo visto sempre tante persone nella piazza che si sono recate appunto per vedere la biosfera. Per quanto riguarda lo spostamento era una cosa che avevamo detto dall'inizio anche perché il progetto è un progetto che nasce per Pesaro capitale della cultura e tutti sappiamo che ha un anno di durata Pesaro capitale della cultura e quindi poi anche la biosfera verrà spostata. Con il sindaco mi sono confrontata in questi giorni, si è parlato di tanti luoghi della città ma comunque voglio dire che questo progetto non è la Francesca Frenquellucci che ha avuto coraggio di uscire sui giornali e di dire la verità di come stavano le cose. È un progetto che è stato fatto con una squadra, con una squadra dove c'era l'assessore Vimini dove c'era chiaramente il sindaco e tutta la giunta e insieme abbiamo portato avanti questa idea progettuale. L'assessore a Pesarese torna poi sul tema dei finanziamenti che hanno riguardato la biosfera chiarendo nuovamente la situazione. Per quanto riguarda i soldi del bando sono 11 milioni e 300 mila euro ritorno a dire e a ribadire perché in questi mesi, l'abbiamo detto più volte sono soldi che non possono essere messi in altri fondi o in altri capitoli di spesa sono soldi che devono andare in tutto ciò che è la trasformazione tecnologica e l'innovazione digitale quindi non possiamo sistemare asili, non possiamo sistemare le buche delle strade ma soprattutto se non vengono utilizzati, che è un bando vinto questi soldi ritornano indietro, ritornano diciamo nelle casse del ministero che poi verranno messi o dati ad altre città. Alle notti di estate si alternano anche notti di furti, di spaccio ma fortunatamente anche di arresti. Sono quattro infatti le persone finite in manette negli ultimi giorni a seguito di due azioni distinte delle forze dell'ordine. Il primo caso ha riguardato due ragazzi sorpresi a Ginestretto durante un controllo con cani antidroga condotto dai carabinieri nelle aree di Pesaro, Gabice e dell'entroterra fino a Monbaroccio. I due giovani all'arrivo della volante hanno tentato di nascondere la cocaina all'interno di un EFILI per aver poi scappato all'interno di un EBAR azioni che però non hanno impedito l'intervento dei militari. Così Comanulo è servito da un uomo ad una donna rumena rispettivamente di 35 e 30 anni occultare l'area furtiva che portavano nella loro auto. Infatti sono stati intercettati dalla polizia stradale che controllando la vettura hanno ritrovato vari capi di abbigliamento di un noto negozio delle fiume Metauro procedendo così alla denuncia dei due. E andiamo ora a raccontarvi quanto ci ha segnalato un nostro telespettatore. Come sempre vi ricordo il nostro numero al quale inviare le segnalazioni tramite WhatsApp 370-366-7210. In questo caso il nostro telespettatore ha voluto evidenziare e ha documentato lo stato di degrado che riguarda il cavalca ferrovia di Sabata. A partire da quello inerente alla presenza di numerosi piccioni che letteralmente vanno ad occupare lo spazio di passaggio pedonale dell'area obbligando dunque le persone a camminare sulle tratte dedicato alle automobili passando poi per le conseguenze che un così elevato numero di volatili comporta da quello dell'imbrattamento di Morales e delle auto parcheggiate sul posto sino al disagio di alcuni piccioni che giacciono senza vita proprio sotto il cavalca ferrovia. Immagini e degrado che spingono dunque il nostro telespettatore a chiedere l'installazione di strutture volte ad evitare una presenza così grande di piccioni in quell'area. Tra i campi della chiesa di Montecchio e quella di Villa San Martino è nata invece circa un anno fa una realtà che ha fatto delle calcio una missione sociale ovvero Casa 33 che ha voluto raccontare la loro storia e soprattutto lanciare un appello. Vediamo il servizio. Si chiama Casa 33 perché più che una squadra di calcio è una vera e propria casa per le persone in difficoltà. Lo scopo è quello di fare del bene, di aiutare, di divertire e forse anche di distrarre dai tanti problemi della vita attraverso un calcio ad un pallone per uno sport sempre più sociale dove la parola squadra assume un significato ancora più profondo. Casa 33 è nata lo scorso anno e siamo un'associazione la nostra idea è attraverso lo sport aiutare le persone abbiamo una squadra di calcio appunto che gioca in terza categoria quest'anno abbiamo creato anche la squadra di calcio 5 perché i ragazzi quest'anno ci hanno contattato in tantissimi e siamo arrivati fino a 38 quindi proprio la nostra idea è dare la possibilità a tutti di far parte di una squadra credo che sia una cosa molto importante questa e questa associazione vuole cercare di aiutare alle persone che fanno parte appunto di Casa 33 in vari modi ad esempio abbiamo creato anche delle lezioni di italiano e stiamo cercando di aiutare alcuni ragazzi che cercano casa, lavoro cerchiamo di fare tutto quello che si può per dargli una mano non solo in campo ma anche fuori Casa 33 deriva dal nome di due persone la CLA sono le iniziali del Beato Carlo Acutis mentre la SLA di Sara, una mia amica che è andata in cielo un po' di tempo fa e il 33 è un numero importante che mi segue da tanto tempo è stato un caso ma secondo me non è mai un caso e proprio questo nome, Casa 33 noi abbiamo la speranza che tutte quelle persone che si avvicinano a Casa 33 che fanno parte di Casa 33 si sentano proprio a casa, si sentano in famiglia e credo che sia questa la vera bellezza proprio di Casa 33 e poi c'è l'appello lanciato da Alex per sostenere l'associazione e le sue iniziative affinché Casa 33 continui ad esistere e ad essere sempre più grande, sempre più accogliente noi siamo contentissimi di tutte le persone che si stanno dando una mano perché noi viviamo di donazione quindi qualsiasi donazione per noi è importante ad esempio diverse persone ci danno una mano a livello economico alcune persone ci danno una mano donandoci le scarpe, i palloni, le casacche alcune persone invece ad esempio come il signor Leonardi, il signor mister Fulvio Giovannetti, Azzolini ci danno tante volte una mano proprio nei consigli di campo, tattici e gestionali quindi ogni persona per noi è fondamentale, qualsiasi cosa per noi è tanto importante pensare che spesso dico e mi piace ribadirlo spero che tante persone imparino, inizino a vivere Casa 33 Matteo Ricci chiama Renzi per una coalizione di centro-sinistra che si allarga anche ai liberali questo il messaggio che arriva dalle parole dell'ex sindaco di Pesaro, oggi europarlamentare che commenta la presenza di Matteo Renzi alla festa dell'unità nazionale delle PD che quest'anno si terrà a Pesaro e che vedrà l'ex premier presenziare il 28 di agosto Ricci definisce la festa DM come il luogo dei faccia a faccia e quindi la location migliore dove confrontarsi e magari trovare punti in comune tra politici di partiti diversi e parliamo invece adesso di un evento che ci attende nella nostra provincia e che riguarda l'ultimo dei concerti di Belcanti nel programma alle ROF 2024 che si terrà mercoledì 21 agosto alle ore 16 al Teatro Rossini protagonista della serata sarà Daniela Barcellona una delle cantanti più amate dalle pubblico del festival accompagnata alle pianoforte da Alessandro Vitiello e rimaniamo sempre in tema di eventi ma ci spostiamo a Gradara dove lo scorso fine settimana si è tenuto il Gradara Wine Passion un evento che unisce il buon vino alla bellezza dell'estate tra attività, musica e iniziative Oggi con le nostre telecamere seguiamo la passione seguiamo il Wine Passion dove a Gradara ormai un appuntamento irrinunciabile per gli amanti di un buon calice di vino vino artigianale, fatto con passione, fatto con grande competenza e soprattutto fatto all'aria aperta all'interno di questo bellissimo borgo che richiama anche tante altre passioni tra cui quella dell'arte, della storia e quella di Paolo e Francesca Filippo Gasperi, sindaco di Gradara ha dato l'avvio con una meravigliosa sciabolata a questa nuova edizione di Gradara Wine Passion Sì, Nicolo, infatti ormai è tradizione che io e Thomas, il vice sindaco apriamo questo bellissimo evento con una sciabolata di due prestigiosi vini che inaugurano questi due giorni dedicate al vino è la passione del buon vino per un'arte che si rende unici nel mondo e che nel contesto di questo borgo storico acquista ancora più valore quest'anno torna la musica dal vivo grazie al contributo di Leo Ercolanen che ha messo insieme tre band live e un DJ set che è qui nella piazza principale quindi buon bere, buona musica, un buon contesto e bella gente, meglio di così Ci voleva una bella festa del vino anche ad agosto, anche a Gradara Beh sì, ormai è diventato tra gli appuntamenti più importanti è davvero molto atteso anche da noi perché dopo una stagione molto intesa e carica di eventi anche per noi è un momento in cui ci rilassiamo e ci godiamo il nostro bel burgo passeggiando e assaggiando buoni vini quest'anno con una grande novità, Nico, perché per la prima volta abbiamo inserito i vini dell'amicizia che sono quei vini che vengono da nostre città gemellate in questo caso dall'Antaglia, dalla Turchia dalla città di Morat Pasha, città bellissima nel sud della Turchia e da San Vincenti, altra città gemellata con Gradara che si trova in Istria, Croazia Sarà possibile quindi assaggiare e degustare questi vini croati e turchi e anche questo penso sia un modo per estendere il concetto e la condivisione di un piacere, di una bellezza e di una conoscenza culturale come è il vino anche con i nostri partner in tutta Europa e concludiamo il nostro telegiornale parlando di sport lo facciamo con l'AVL che è partita per il ritiro ieri mattina in direzione Carpegna tra l'entusiasmo dei suoi tifusi una bellissima cornice dalle quale partire per una stagione tanto sentita è partita ufficialmente la stagione 2024-2025 della Vittoria Libertas che ieri mattina ha visto riunirsi giocatori e staffe tecnico davanti all'entrata dell'hotel Baia Flaminia in occasione della partenza per il ritiro estivo una prima parte di preparazione che verranno svolti nei prossimi giorni a Carpegna Siamo a completo, arriverà a lunedì Ahmad l'ultimo che prenderà il visto e ci raggiungerà subito quindi diciamo che siamo subito tutta la squadra per allenarci faremo i primi 3 o 4 giorni di attivazione diciamo un po' più con Roberto Venerandi e intanto metteremo un po' di pallacanestro non giocata nel 5-5 ma solamente nel 5-0 poi da mercoledì giovedì partiremo avremo la fortuna di stare tutti insieme a Carpegna quindi anche conoscerci un pochino più a livello umano insomma una bella avventura Tanto piacere con tutti i tifosi qua è una bellissima atmosfera e volevo rivederla non vedevo l'ora quindi dai sono molto contento di essere qui io sto bene qua lo sapete tutti quanti quindi penso ci sia stata pochissima trattativa io davvero non vedevo l'ora di tornare ho accettato questa sfida perché credo che le responsabilità mi facciano fare un salto di qualità e credo che Pesaro sia una piazza giusta per affrontare un campionato del genere e infatti quando Pino mi ha chiamato non ho per sacripanti non ho esitato a dir di sì ritrovo un attore che è già malenato e quindi sa già le mie caratteristiche e come gioco mi sa fare spingere al meglio seconda cosa l'ambizione di voler riportare in Serie A la città come Pesaro, la squadra come Pesaro Un campionato tutt'altro che scontato sono infatti tante le squadre che lotteranno per un posto nella massima serie Mi sembra che ci sia tanta 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 card al fuoco vediamo chi sarà più bravo nel compattare la squadra e soprattutto secondo me chi avrà più resilienza nella coerenza nell'essere sull'obiettivo giornata dopo giornata perché a me non è mai capitato di fare un campionato a 38 partite quindi devi essere molto molto forte di testa oltre che fortunato e bravo sugli infortuni e sul gioco so benissimo cos'è la passione di Pesaro si sente, si percepisce in città questa voglia di pallacanestro e questo ci responsabilizza ancora di più oltre che ci appassiona noi d'altronde facciamo questo mestiere e diciamo che si vive anche per questo è uno stimolo molto forte credo ci sia Cantù Udine Rimini, Fortitudo c'è tante tante squadre che possono ambire alla promozione quindi per questo dicevo anche prima che il campionato ha molte buone squadre e tutte le partite saranno difficili questo sarà un campionato super interessante anche perché ci sono tantissime squadre con una grande storia dietro noi, Fortitudo ce ne sono tante quindi sarà un bel campionato e la 2 deve essere come uno stimolo una ripartenza da questo per tornare su perché questo è l'obiettivo sempre insieme a te comunque ma da te mi sapere che noi non ti lasciamo Ed ora in bocca al lupo l'AVL per la sua stagione che la vedrà nel campionato di A2 con la speranza di rivederla tra un anno in Serie A1 questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale ora però vediamo la programmazione in onda su Rossini TV perché questa sera alle 21.20 potremmo rivedere le repliche di Check Up Obiettivo Salute programma che è in pausa in questo mese di agosto la nuova programmazione ripartirà dalle mese di settembre e potremmo rivedere un'intervista che il nostro Antonio Stuti ha fatto ad uno dei medici che collabora con Fisoradi Medical Center questa sera a 21.20 vi ricordo il nostro programma con la rassegna stampa domani mattina saremo in diretta alle ore 7.20 repliche 8.20 12.20 14.20 18.20 diretta anche su Facebook app e sito domani mattina ci sarà Marco Cadeddu ed è davvero a tutti vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia vi auguro una buona proseguimento di serata grazie a tutti